Se il nostro Avvocato di fiducia sbaglia, a nostro parere, ripetutamente le strategie di difesa e non porta risultato concreto o risultato pari a zero, sono libero e siamo liberi di poter esprimere il nostro parere? Sono libero e siamo liberi di poterlo revocare? Sono libero e siamo liberi eventualmente di poterlo segnalare questo professionista all'ordine degli Avvocati? E' giusto che facendo una denuncia e ricevendone un'altra, quindi pareggiando denuncia, denuncia, che si apra un dibattimento. Con il dibattimento io dico A, tu dici B, il giudice decide chi ha ragione, esaminando le carte, non perché tu sei Avvocato e io non sono Avvocato, ma bisogna esaminare con attenzione i fatti e le carte.